Buongiorno, oggi ci prepariamo a una puntata a colori, perché parliamo del classic blu, il colore dell'anno definito come ogni inizio d'anno dalla Pantone e quest'anno appunto è l'anno del blu, del blu classico. Ma cosa vuol dire nella nostra vita, nella nostra quotidianità questo riconoscimento al colore, questa nomea del colore dell'anno? E soprattutto andiamo anche un po' a scoprire come si arriva a questa scelta, perché è stata fatta questa scelta che ha una risonanza mediatica non indifferente nel periodo a cavallo tra Natale e Capodanno, con l'architetto Laura Squeraroli che è nostra ospite. Buongiorno e benvenuta. E appunto oggi parliamo di questo mondo a colori, un mondo che è completamente blu. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Che nei prossimi mesi l'abbigliamento, l'arredamento, le automobili, insomma tutto sia dipinto di blu? Qual è l'influenza o quali sono gli effetti pratici e immediati di questa definizione di colore dell'anno? Sì, un po' è così effettivamente, nel senso che lo vedremo spesso, più spesso di quello che siamo abituati a vederlo, perché quest'anno peraltro è stato scelto un colore abbastanza tradizionale, non eccessivamente eccentrico, per cui un colore che già normalmente si usa molto, sia nell'abbigliamento che nelle case. Però è vero, c'è questa azienda americana che da 20 anni a questa parte, perché per la prima volta l'ha fatto nel 2000, seleziona un colore dell'anno e questo è un po' mediaticamente appunto un enorme successo, perché poi tutte le aziende convergono nel rinnovare magari i tessuti di alcuni oggetti, piuttosto che nella grafica o nel design, nel packaging, si vede sicuramente molto di più, quindi alimentando poi il successo ovviamente del colore. Lo stesso la moda, tutto il settore della bellezza, per cui magari gli ombretti, gli smalti, sicuramente è un colore, e lo stesso ovviamente anche i vestiti, anche recentemente, poi ho portato alcune foto anche di accompagnamento, abbiamo cominciato a vedere le star nelle varie premiazioni, vari eventi che indossano appunto questo colore. E come è successo, come è nata questa idea di questa ditta molto famosa, di colori, che non è peraltro l'unica, però è la più nota, la pantone, come ha avuto l'idea e come sceglie poi di anno in anno, cioè io me l'immagino un po' tirare a caso, a coprendere la mazzetta dei colori che lei anche ci ha portato, e puntare un po' il dito, invece non è così, no? Ci spiega che il procedimento è un po' più, tra l'altro questo è un oggetto bellissimo secondo me, il procedimento è più complesso e più studiato, no? Ci ha portato anche la motivazione, che è piuttosto lunga e articolata. Allora, la pantone nasce negli anni 60 in America, alla fine degli anni 50 in America, è uno dei criteri con cui vengono classificati i colori, non l'unico, però è un'azienda che ha saputo fare, costruire il proprio brand molto bene, quindi con azioni di marketing, di comunicazione, facendo molto merchandising, per cui ogni anno esce appunto il colore dell'anno, ma la pantone fa uscire la tazza col colore dell'anno, piuttosto tutta una serie di gadget veramente infinita, per cui dalle palline per decorare l'albero di Natale, alla ciabatta, allo zaino, alle cuffie per ascoltare la musica, ci sono tutta una serie di oggetti che contribuiscono appunto al successo. Nasce appunto negli anni 60, però solo dal 2000, la pantone ha questa idea di nominare un colore che identifica l'anno, quindi il 2000 è anche un anno simbolico, il primo colore dell'anno è stato il colore ceruleo, quindi c'è un po' un ritorno anche se non la tonalità. Beh insomma, alle basi sono quelle, no? I primari sono sempre quelle. E poi negli anni si sono succeduti un po' di gialli, di aranci, di verdi. L'altro anno era il corallo, no? L'altro anno era il corallo. È un po' più difficile. Un po' più difficile magari nell'arredamento, però magari nella moda invece l'abbiamo visto tanto, soprattutto d'estate, no? Succede che lo nominano non a caso, ma ci sono degli esperti che ogni anno vengono convocati dalla Pantone, questi esperti che sono sociologi, antropologi, artisti, designer, esperti nel mondo del design, della moda. Questi esperti raccolgono un po' già quelle che sono le tendenze, quindi vanno a visitare le città più, come dire, fertili da questo punto di vista, esatto, fanno proprio un'operazione di cool hunting, che non è una parolaccia, ma è proprio quello che significa proprio sentire, annusare quelle che sono le tendenze e anche un po' i sentimenti, diciamo, della popolazione e delle persone. Quindi, i sentimenti vuol dire che in qualche modo sintetizzano poi con un colore e con delle motivazioni, quello che è un po' la tendenza mondiale a livello, sì, di grafica, di design, di moda, ma anche appunto di sentimenti e emozioni. Io vorrei infatti che ci leggesse parte almeno della motivazione perché è interessante quello che si può leggere dietro a un colore. Cioè noi vediamo magari appunto la famosa mazzetta, vediamo il rettangolo con la tinta e con il codice, ma ci si riesce a vedere dietro un mondo abbastanza articolato, abbastanza complesso, che poi è quello che probabilmente fa ognuno di noi di fronte a un colore, c'è una reazione, c'è un gusto personale, ma comunque una reazione emotiva, no? Certo, assolutamente. E lì è anche sintetizzata. Qua stiamo vedendo intanto invece delle immagini proprio anche di sfumature. Per far vedere come poi questo pantone che ormai ha invaso anche appunto i packaging del gelato piuttosto che altre cose. Allora, la motivazione intanto che loro danno dicono che il pantone del 2020 trasmette la solidità e fiducia di cui abbiamo bisogno per i tempi che stiamo vivendo. Il Classic Blue ci incoraggia a guardare oltre l'ovvio per allargare il nostro pensiero, ci sfida a pensare più profondamente, ampliare il nostro sguardo e aprirci alla comunicazione. Ed ancora oggi si sente la sensazione di trepidazione per il mondo, motivo per il quale anche in base a ciò che abbiamo visto succedere nella nostra cultura globale, abbiamo selezionato il Classic Blue come colore pantone del 2020. È un colore rassicurante, pieno di calma, sicurezza che crea connessioni. E non a caso, in effetti, il colore blu è sempre stato un po' legato a questi sentimenti, almeno nel mondo occidentale, perché è anche importante dire che i colori ovviamente cambiano perché siamo comunque, anche noi, abbiamo molti pregiudizi che vengono ovviamente dalla nostra storia e dalla nostra cultura. Quindi quello che vale per i colori nell'Occidente magari non vale nell'Oriente. Ecco, stanno attenti alla pantone a questo aspetto. Cioè, scelgono sempre un colore che, ok, va bene un po' per tutti? Sì, perché in realtà poi la moda, il design adesso sono anche molto globali. Certo, assolutamente. Per cui, diciamo, questo discorso che facevo prima si riferisce più alle tradizioni, no? Per noi il bianco è il colore delle spose, in Oriente il colore del lutto. Quindi alcuni piccoli accorgimenti ovviamente sono necessari nel momento in cui poi andiamo magari a tradurli declinando alcuni brand, alcuni packaging, alcuni aspetti della comunicazione visiva. Ecco, io tornerei un attimo sul discorso della mazzetta dei colori perché alla fine dobbiamo avere anche delle ripercussioni pratiche, no? Chiaramente scegliere una maglia blu piuttosto che appunto corallo... Non è così impegnativo. Sì, non è così impegnativo. Gli ultimi anni, io ricordo anche il viola, il greenery, questo nome anche piuttosto suggestivo per quel verde giallo, un colore molto forte. Ecco, alla fine quello non è determinante per la vita. Forse un divano, piuttosto che una parete, piuttosto che qualcosa in casa propria diventa più impegnativo. impegnativo, ecco. Quindi come sceglierlo, come declinarlo, come capire qual è il limite dell'uso del colore dell'anno? Non bisogna improvvisamente stravolgere le proprie case, no? Ovviamente per andare dietro alle mode. Come sempre il buon senso, come sempre poi anche il gusto personale. Però ecco, è uno spunto per in qualche modo rinnovare un ambiente secondo gusti più contemporanei, no? Ci sono state le grandissime ondate di ritorno degli anni 70, quindi con determinati colori, quelle grandi ondate del verde. Adesso ci sono questi colori che tutto sommato grandi danni poi non li fanno. Ecco, per questo anche mettersi in casa una poltrona di questo colore o anche una parete. Poi anche dipende dall'ambiente, no? Perché il colore effettivamente poi in qualche modo influenza i nostri comportamenti, senz'altro. Per cui pensare anche di adattarlo ad alcuni ambienti per favorire determinate reazioni anche della nostra mente e del nostro corpo non è sbagliato. In questo caso questo è un colore assolutamente positivo, calmo, rassicurante, che favorisce appunto gli incontri. Quindi in una zona living va benissimo una parete di questo colore, piuttosto che ovviamente in una camera da letto, in un luogo dove abbiamo la necessità di riposare, di incontrare anche gli amici, avere conversazioni rilassanti. E anche, insomma, concentrarsi, magari leggere. Concentrarsi, quindi una zona studio, magari questa è un po' più scura. Quindi, insomma, lei consiglia di iniziare comunque con, magari, con dettagli. Qualche tocco di colore. Qualche tocco, che poi sia possibile eventualmente modificare il prossimo anno con il prossimo colore pantone, oppure se ci si stufa fra qualche tempo. Insomma, la regola è sempre quella, usare il buon senso, assolutamente, assolutamente sì. Anche i designer, stilisti, eccetera, ok, fanno le collezioni provocatorie, però poi, insomma, si fa la tara, no? Va tutto mediato, sicuramente, secondo le proprie esigenze, i propri gusti personali. Ecco, c'è qualche oggetto, qualche dettaglio che lei proprio consiglia? Dice, io l'ho visto nel classic blu, piuttosto, ed è valorizzato, ed è al meglio della sua forma. Tra l'altro è un colore, il blu, magari non questa nuance del classic, però il blu lo troviamo sempre in molti loghi, in molte scritte, insomma, è... Non a caso il colore che viene usato da tutti quei brand che hanno la necessità di proporsi con un alone, appunto, di sicurezza, di dare fiducia ai propri consumatori, quindi banche, assicurazioni, usano moltissimo il blu, perché proprio per noi il blu ha un significato inconscio, appunto, di un qualcosa di cui ci si può fidare, ecco. Per quanto riguarda, torniamo al discorso, appunto, dei nostri interni, anche lì, ripeto, è un colore abbastanza neutro, tutto sommato, per cui sta anche molto bene vicino con i legni, sta molto vicino con i colori cemento, per cui, tutto sommato, si riesce in qualche modo ad abbinarlo. Poi magari è sufficiente, appunto, comprare una coperta di quel colore, no? Piuttosto che rinnovare la biancheria, quindi non è sempre necessario dover per forza investire anche delle cifre importanti per dipingere una parete o per acquistare un nuovo divano, quindi forse anche sostituendo semplicemente alcuni tessuti, qualche dettaglio, è più facile fare questo tipo di operazione, quindi adeguarsi anche alla moda. Andare per gradi. Lei, faccio una domanda dal punto di vista del suo lavoro, insomma, di architetto. Questi input che arrivano da, come abbiamo visto, aziende grandi che giocano un po' comunque sul marketing e su questo impatto mediatico, poi, di queste scelte, penso anche a un altro marchio diverso, insomma, del settore, tipo l'IKEA, ho visto la pubblicità, con gli scatoloni per Harry e Meghan negli ultimi giorni, insomma, quindi sono al pazzo, danno molti input a voi professionisti. Come li recepite? Cioè, vi seguite l'onda oppure naturalmente mettete un limite di buonsenso, di consapevolezza, anche di professionalità, ecco, all'uso? Non so, di solito come ci si regola? Sì, anche qui devo dire che funziona sempre la stessa regola, un po' di buonsenso, capire anche chi sia davanti, nel senso che se c'è una casa privata da arredare, ovviamente bisogna anche ascoltare chi ci abita, capire quali sono le sue esigenze. Più facile magari giocare, invece, nel mondo del retail, perché in questo caso, ovviamente, anche l'attenzione, appunto, alle mode, alle tendenze, è più forte, più sentita, per cui le persone, tutto sommato, si mettono anche più in gioco e sono disposte anche un po' a giocare un po' di più, ovviamente, e quindi tutto sommato si ragiona in questo senso. Ci sono invece altri settori che è bene, che non subiscano questo tipo di mode. Sto pensando al fatto di poter usare i colori e un po' alla volta ci stiamo arrivando anche noi in Italia, ma sempre troppo poco, per esempio, in ambienti di cura, piuttosto che nelle scuole. Adesso, insomma, nelle nostre scuole tutto sommato sono sempre così asettiche e invece, a un certo punto, abbiamo ormai capito da decenni, per cui grazie anche alle neuroscienze, tutta una serie di studi molto approfonditi che i colori aiutano anche appunto la concentrazione, aiutano il fatto di non distrarsi troppo spesso, aiutano i bambini a essere anche più calmi, quindi il dosaggio dei colori anche in ambienti delicate come le scuole ma anche come gli ospedali, quindi anche gli ambienti di cura vale lo stesso discorso, quello non deve essere ovviamente un discorso di moda, ma deve essere un discorso funzionale, diciamo, funzionale, esatto, e strutturato con dei pensieri che non siano solo dell'architetto, ma siano anche dello psicologo e siano anche di figure che mettono insieme appunto più competenze, però con un obiettivo anche molto più preciso e anche più serio, ovviamente. Certo, beh sì, certo, potrebbe valere anche negli ambienti di lavoro, per esempio. Anche, assolutamente, vale anche negli ambienti di lavoro, no? Come in quelli della casa, certo, però diciamo che... Dove trascorri molte ore, insomma, dovresti stare a tuo agio. Faccio un passo indietro, lei ha detto dal 2000 ci sono questi colori, abbiamo visto anche stranezze, eccetera, mi dica, in chiusura, qual è quello che ha preferito, magari, quello che proprio ha detto, no, io questa roba non riesco a usarla, perché proprio non lo posso, non lo posso vedere, perché c'entra anche il gusto personale, no? Sì, a me piacciono tutti i verdi, va bene. C'è una mia amica che mi ha soprannominato verde salvia, no, però, insomma, a me tutte quelle tonalità piacciono moltissimo, piacciono molto anche i blu. I colori più difficili sono come quello dell'anno scorso, ecco, quello dell'anno scorso, questo color corallo, francamente, è stato un po' più difficile, non l'ha proposto. Non l'ha proposto tantissimo, ma anche i rose e gli azzurri. Sì, insomma, sono un po', fanno American i 50, un pochino, un po' Barbie. Va bene, grazie Architetto per essere stata con noi, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, e insomma, concentratevi sul blu.